Ciao benvenuta alla puntata numero 7 della Priscatole. Ti starai chiedendo perché dovresti venire da noi nel nostro negozio ad acquistare le tue scarpe e io ho preparato la mia risposta perché siamo specializzate nelle scarpe italiane artigianali e siamo particolarmente adatti per le persone che per lavoro devono indossare delle belle scarpe ma che vogliono stare bene con i piedi fino a sera. Ecco perché con la Priscatole abbiamo delle offerte speciali riservate per farti provare se è vero quello che diciamo e quindi farti venire a provare le nostre scarpe in negozio. Il primo articolo che ti proponiamo questa settimana è un bellissimo sandalo ed è fatto così. Allora si tratta di un sandalo in cavallino con la fascia in cavallino e una fascia in vitello color cuoio. Il tacco è di 77 cm tutto foderato in pelle. La suola è di cuoio come vedi dai marchi applicati dei simboli è tutto di cuoio e pelle naturale. Il soletto è anche imbottito e poi il cinturino dà la possibilità di farlo aderire perfettamente alla caviglia. La seconda proposta è una scarpina bassa molto particolare appena arrivata. Ecco si tratta di una scarpa spezzata con il cinturino incrociato sulla caviglia nota la particolarità di tutte le borchettine che la circondano ed è una scarpa sempre a fondo cuoio con l'antiscivolo davanti sempre tutto in cuoio prodotta dai nostri artigiani nella riviera del Brenta ed è esattamente molto molto comoda e confortevole. La terza proposta invece è per quando hai terminato il lavoro. Quando hai terminato il lavoro hai del tempo libero e vuoi camminare in libertà ed è questa la sneaker di oggi. Fa sempre parte della categoria delle sneakers un po' alte di suola è fatta in tessuto e camoscio ed è molto bellino mi piace molto questo profilo fucsia all'interno e anche il profilo della suola in modo che dia tono alla scarpa nera. La borsa che invece andiamo a vedere questa settimana è particolarmente adatta ai primi due articoli che hai visto sia il sandalo che la scarpina bassa ed è fatta in questo tessuto un po' effetto glitter laminato con riporti in pelle cuoio quindi molto neutra di gusto sportivo da poter mettere anche in piena estate. Bene è il momento di andare a vedere le offerte di questa settimana che sono valide fino a lunedì 6 maggio. Il sandalo in cavallino costa 179 euro e per questa settimana lo puoi avere a 134. La scarpa aperta con le borchie costa 210 euro e per questa settimana la puoi avere a 157. la sneaker nera costa 199 euro e per questa settimana la puoi avere a 149. La borsa in tessuto cangiante costa 165 euro e per questa settimana la puoi avere a 123. Bene anche tu quindi se vuoi provare ai tuoi piedi delle scarpe che non ti fanno male ti aspettiamo in negozio per farti provare attraverso queste offerte e noi ci vediamo la prossima settimana mi raccomando condividi il video se ti è piaciuto ciao